ciao ciao presentati sono francesca loro ho 32 anni e abito a san martino di luperi in provincia di padova descriviti in poche parole solare tenace precisa empatica genere musicale pop rock musica classica soul r&b a quale grande voce ti ispiri principalmente ad elisa ma anche georgia arisa e mina che cosa ti spinge a studiare canto è la passione più grande e più cara che ho voglio imparare voglio migliorarmi voglio superare i miei limiti ma soprattutto voglio che sia il mio futuro perché soprattutto in questi ultimi anni ho capito che la cosa che mi fa star più meglio in assoluto come hai conosciuto art voice anni fa tramite i social e amici e conoscenti che me la consigliavano anno accademico frequento il primo anno pre accademico descrivici in poche parole art voice academy sto frequentando art voice academy da sette mesi ma subito ho sentito un bellissimo clima familiare accogliente infatti sta diventando ormai la mia seconda casa la mia seconda famiglia e è un luogo prezioso dove si cresce personalmente e artisticamente in un contesto di alta professionalità di cura precisione e di stima quali opportunità ti da art voice academy cantare ad eventi importanti con artisti di fama internazionale partecipare a masterclass con professionisti di alto livello organizzare o partecipare ad eventi interni all'accademia come ad esempio il progetto di metà anno che è stato fatto il festival bar degli anni 90 99 e tutto questo appunto ci permette di tirar fuori il meglio di se stessi e veder le cose sotto un altro punto di vista com'è cantare con un'orchestra io di solito canto accompagnata da due o tre musicisti alle cerimonie civili o religiose tipo i matrimoni o nelle band con cinque o sei musicisti ma cantare in un'orchestra per me è stata la prima volta a dicembre in teatro accademico a castelfranco è stata un'emozione indescrivibile bellissima ti lascia una carica un'adrenalina pazzesca e ti lascia quel desiderio di riprovare questa esperienza altri numerevoli volte ci fai ascoltare qualcosa certo che si vi faccio ascoltare killing me softly saluta buona musica a tutti ciao saluta buona musica a tutti 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 saluta buoni 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 saluta buoni